Il mondo è pieno di intervistatori ruffiani che fanno domande così Un ospite eccezionale è la grande Caterina Palino La grande Caterina Palino Si è un veterano, lei è il secondo anno che lo fa Quindi insomma c'è questa bella intesa Ah beh, se c'è intesa con il veterano Tanto come ti senti ad essere la stella prima di questo festival? Come ci si sente ad essere la stella prima? Ma se le domande le facesse una stronza? Cioè io? Ci vediamo stasera su Italia 1